Sto piano, appartamento 15 Povero 41 Non mi comprare niente Sorriderò se ti accorgi Di me tra la gente Ma la gente Siga importante Siga importante Allora, il 21 Il 41 Il 21, il 41 Poi, il 29 è Il 29 è Numero 6 e 2 Battaglione Poi L'11 Il 5 Ed è il frontegno Il 40 Ed è il frontegno Il 40 Ed è il frontegno Poi, 34 e il terzo piano, no, primo piano, interno e tre, e Melotti, 34, Melotti e 34. Non lo che ci è lì, 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 è lì Questa è il quattro che stiamo vendendo al primo piano, quale direzione stai? Questa è il quattro che stai?